Domani, domenica, dalle 7 alle ore 23 al voto per il referendum abrogativo delle concessioni a tribellare ancora in corso. Sì, no o astensione? Gero Micichè. Mercoledì 13 aprile il Car del Lazio ha emesso le due ordinanze che respingono i ricorsi di Codaconze Radicali contenenti la richiesta di accorpare la data del referendum del 17 aprile con quella delle elezioni amministrative del 12 giugno portando così a un election day che a dire dei ricorrenti avrebbe portato a un risparmio di circa 300 milioni di euro per le casse dello Stato italiano e a un tempo più ragionevole per informare i cittadini riguardo i contenuti del referendum. Il giudice amministrativo, al canto suo, ha affermato di non aver ravvisato elementi sufficienti a rilevare l'irragionevolezza e o illogicità della scelta della data del 17 aprile e dunque domani, domenica 17 aprile, si andrà al voto. Riassumiamo dunque i contenuti del quesito referendario. Il referendum del 17 aprile, a cui molti si sono riferiti come referendum sulle trivelle o sulle trivellazioni, ha ad oggetto le estrazioni di idrocarburi offshore entro le 12 miglia nautiche dalla costa alle quali è stata precedentemente rilasciata la concessione. Il divieto estrarre entro le 12 miglia dalla costa risale infatti al 2010 e fu introdotto nel decreto prestigiacomo a seguito dell'esplosione della piattaforma Deepwater Horizon nel Golfo del Messico. A far salve le concessioni già in essere ci ha poi pensato il governo Monti con il decreto legge del 2013 misure urgenti per la crescita del paese, il quale però al contempo estendeva il limite delle 12 miglia dalle sole aree marine protette all'intero litorale nazionale. Dunque all'atto pratico il referendum riguarda direttamente 88 piattaforme che fanno a loro volta capo a 31 concessioni alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi e altre 4 piattaforme i cui permessi di ricerca sono attualmente sospesi. Le piattaforme si trovano in buona parte nel Mar Ionio, nel Mar Adriatico e nel mare di Sicilia. La legge di stabilità 2016 ha confermato il divieto di concedere nuovi permessi di coltivazione degli idrocarburi entro le 12 miglia e ha disposto che i titoli abilitativi già rilasciati siano fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento non specificando quale sia la durata utile né i parametri per individuarla. Il quesito referendario riguarda proprio la durata delle concessioni e in particolare richiede proprio l'abrogazione della norma nella parte in cui recita per la durata di vita utile del giacimento locuzione che molti sostenitori del sì ritengono rischiosa perché troppo generica e indefinita. La vittoria del sì comporterebbe la cancellazione di questa piccola frase e quindi un ritorno a quanto già previsto dalla normativa comunitaria e da quella italiana ovvero che tutte le concessioni per lo sfruttamento di risorse minerarie o di idrocarburi sia di mare sia di terra abbiamo durata trentennale con facoltà di proroga per altri vent'anni. Riassumendo le posizioni emerse in questi mesi i sostenitori del sì sostengono che la norma in oggetto sia palesemente illegittima in quanto una durata a tempo indeterminato delle concessioni viola le regole sulla libera concorrenza come afferma il costituzionalista Enzo Di Salvatore tra i principali promotori del referendum. I sostenitori del sì sostengono inoltre che le piattaforme petrolifere dannegino la fauna marina e la salubrità del mare e infine che questo voto abbia una forte valenza politica in quanto la vittoria del sì incentiverebbe il governo a investire nelle energie rinnovabili ed eviterebbe che un giorno si possa pensare di ritornare a estrarre gas e petrolio. I fautori del no d'altro canto sostengono che quasi tutte le piattaforme interessate dal referendum non estraggono greggio ma gas e che soprattutto operano da anni senza danneggiare l'ambiente marino in piena sicurezza e consentendo di estrarre il gas di cui l'Italia ha bisogno con un risparmio di quasi 5 miliardi l'anno sulla bolletta energetica. Questo quanto sostiene il movimento ottimisti e razionali di Gianfranco Borghini il quale aggiunge che in caso di vittoria del sì il nostro paese sarebbe costretto a comprare un maggiore quantitativo di gas dai paesi esteri aumentando la propria spesa energetica. Infine il presidente settore idrocarburi di Asso Minerari a Pietro Cabanna sottolinea come la vittoria del sì manderebbe in fumo 7 miliardi di investimenti e 5 mila posti di lavoro e altri hanno indicato cifre occupazionali ben superiori. E non manca anche chi sembra invitare all'astenzionismo. Fra questi troviamo Matteo Renzi in prima linea che ha definito una bufala il referendum del 17 aprile e ha più volte ricordato che la segreteria del PD nazionale si è detta favorevole all'astenzione e che l'astenzionismo è da ritenersi un atteggiamento costituzionalmente legittimo. Vari esponenti del PD di Agrigento non si sono mostrati d'accordo col Premier e come i rappresentanti di altri schieramenti quali forse Italia si sono espressi a favore del sì mentre altri ancora, Movimento 5 Stelle e Radicali in testa, hanno attaccato il Premier ricordando il DPR 361 del 1957 il quale recita che chiunque investito di un pubblico potere si adopera a indurre gli elettori all'astenzione è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 a 2065 euro. Per molti dunque è lo stesso governo a remare contro il referendum e questo sarebbe anche comprovato dagli esigui spazi di informazione che la RAI avrebbe dedicato alla consultazione referendaria. Secondo i dati riportati dalla Media Research Company Greca Italia la RAI avrebbe dedicato al referendum 8 ore 59 minuti tra il 4 e il 10 aprile due ore in meno dell'emittente La7, la quale con 11 ore 34 minuti e 45 secondi ha dato spazio al referendum 5 volte in più rispetto alle reti Mediaset. Un fatto, quello della RAI, definito gravissimo dal consigliere di minoranza Carlo Freccero che intende portarlo all'attenzione del CDA del 20 aprile. Questo è il quadro che riguarda il referendum di domani, domenica 17 aprile, giorno nel quale ogni libero cittadino avrà la possibilità di esprimere la propria posizione su un quesito certamente importante per il Paese a prescindere dalla risposta che ognuno vorrà dargli.